Ciao Roberto Buongiorno Marina Pensavo di chiamarsi ma non sentendo di Ma forse è successo qualcosa con Fabrizio Scusami se te lo chiede ma sono in pensiero per te Stiamo contanto al tuo proposto Spero che tu gli abbia chiarito bene tutta la questione E soprattutto lui abbia capito quanto si è briccata Aglio spiegato tutto Non ti preoccupare se è caldo E il giro ancora